la fontana masini si trova in piazza del popolo da sempre cuore della città è novello malatesta il primo a ipotizzare nel 1400 la creazione di una fontana in questa piazza come segno visibile della sua autorità ma è nel 500 sotto il potere papale che il progetto si realizza la paternità del disegno della fonte è attribuita a un nobile cesenate francesco masini qui viene affidata la soprintendenza ai lavori secondo la tradizione la sua fontana piacque così tanto ai cesenati e procurò tanta invidia nelle città vicine che gli furono amputate entrambe le mani perché non potesse realizzarne altre è il luglio del 1583 quando la fontana inizia a funzionare lo stile è manierista realizzata in pietra d'istria la fontana colpisce per la cura speciale della prospettiva e l'effetto scenografico l'apparato decorativo è complesso costruito sulla sovrapposizione di forme geometriche agli angoli si trovano quattro pilastri quadrangolari sormontati da tritoni che soffiano acqua in una tromba marina mentre un mascherone rovescia acqua in un catino su cui poggia una coppia di delfini la base è decorata da stemmi quello sul lato nord sovrapposto all'insegna della città appartiene a papa assisto quinto sulla sommità c'è una pigna simbolo augurale fin dall'epoca romana la fontana masini è un catalogo delle meraviglie pensato per stupire con la sua ricchezza chi si affaccia sulla piazza il passato è stata circondata da una cancellata protettiva in ferro poi rimossa ed è stata sottoposta a numerosi interventi di restauro che ne hanno riportato in luce i colori originali